Dopo il successo della parola ai giurati, Alessandro Gassman torna sul palcoscenico del Teatro dell'Aquila nell'ambito della stagione promossa dal comune di Fermo e dall'AMAT, confrontandosi con uno degli eroi tragici tratteggiati dalla drammaturgia shakespeariana Riccardo III. La nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto, diretta dallo stesso Gassman, vede l'attore impegnato in una delle opere più brutali di Shakespeare, cavallo di battaglia non solo del padre Vittorio, ma anche del grande Carmelo Bene. Attore, stratega, affabulatore, genio della menzogna, Riccardo parla, comunica, dichiara e la sua parola si fa azione immediata. La decisione di affrontare per la prima volta anche da regista un capolavoro di William Shakespeare, scrive Gassman, non è disgiunta dal felice incontro artistico con il drammaturgo vitaliano Trevisan, da cui è nata l'idea di trasmettere i molteplici significati del capolavoro shakespeariano attraverso una struttura lessicale diretta e priva di filtri, che liberasse l'opera da ragnatele linguistiche e ne restituisse tutta la complessità, la forza, la bellezza e la straordinaria attualità. Completano il cast dello spettacolo attori del calibro di Mauro Marino, Giacomo Rosselli, Manrico Gammarota, Emanuele Maria Basso, Sabina Knaflitz, moglie dello stesso Gassman, Marco Cabicchioli, Marta Richeldi e Sergio Meogrossi, con la partecipazione straordinaria di Paila Pavese.